Sono nato 87 anni fa. Per 65 anni sono stato liberato di unitario. Ma in tutti questi anni non ho mai riluppato su nessuno. Ho visto il ragione dell'Univio, oltre le quali sono chiesto di noi. E' il 27esimo giorno di ultimo seme nell'anno 433 di Aredos. Sono gli ultimi giorni della terza era. E le ultime ore della mia vita. Aredos 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 Grazie.